Riescerà a fare, la tirano fuori senza romperlo E adesso non è che sono tanto studiato ma fidatevi che si possono mettere tranquillamente anche prima i piedini Prima di fare lo step 2 salto ancora un paio di cose e vado a vedere lo step 4 Andiamo a lavorare con la redstone, con i cavetti ragazzi Allora, si è acceso, attenzione Vediamo un po', arriva un metro e venticinque da terra Cioè, ci passo sotto ragazzi, ci sto sotto, mamma mia Signori E là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati in un video di persona al solito Perché oggi come potete vedere la videocamera si stacca dalla postazione e vi offre un nuovo punto di vista Oggi infatti vi mostro quella che è la mia nuova postazione ragazzi Da un bel po' che lo volevo fare ed è soprattutto da un bel po' che ci sto lavorando Voglio cominciare raccontandovi quella che è stata la mia idea Ho visto infatti un giorno un tipo di scrivania molto particolare Avete sicuramente notato che certe volte durante le mie streaming Piggio un pulsante e tutto magicamente si comincia ad abbassare E si abbassa effettivamente, io sono fermo in questo momento La tastiera, il tablet, il mouse, il monitor, tutto si abbassa E com'è possibile questa cosa? Vabbè, ovviamente come si abbassa, si alza anche Beh, basta cambiare punto di vista ragazzi È l'intera scrivania che si alza e si abbassa Beh, mi serve scontato dirvi che non si tratta di una scrivania normale Il video di oggi infatti è realizzato in collaborazione con un'azienda che si chiama Puttersen Ma attenzione, non è un placement, o almeno sì, è un placement Però sono stato io a contattare loro perché li ho scoperti E gli ho chiesto se volevano supportare questa mia idea Non sono stato in alcun modo pagato Vi sto portando una cosa che avrei comunque tranquillamente potuto acquistare Quindi per ringraziare Puttersen che sicuramente mi ha dato un grandissimo aiuto Perché lo studio, lo sapete, ha avuto già diverse spese di per sé Come ad esempio il nuovo pavimento Vi lascio nella descrizione i link all'acquisto dei prodotti che vi mostrerò Adesso partiamo a bomba ragazzi perché ci sta un bordello di roba Va fatta subito una precisazione Quello che mi è stato inviato non è l'intera scrivania Ma in particolar modo le gambe della scrivania Che hanno un sistema che gli permette appunto di alzarsi ed abbassarsi Mi hanno mandato sì anche un piano ovviamente Ma l'ho sostituito Infatti il piano che vedete qua è in legno L'ho realizzato con l'aiuto del mio babbo A cui mando un saluto La particolarità di questa scrivania infatti Non è solo il potersi abbassare e alzare Ma anche il potersi allargare e stringere Ovviamente si alza e si abbassa elettronicamente Per allargarla bisogna smontare il piano E effettivamente le gambe si possono allargare Da un metro e venti di larghezza Per tipo settanta di profondità Siamo passati a questa super scrivania Che è ben due metri ragazzi Per uno e venti Perché io fondamentalmente sulla scrivania Ci devo mettere il mondo Quindi bando alle ciance Cominciamo con il desk setup tour 3, 2, 1 E girati Voilà Eccolo qui signori Wow 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 Allora io comincerei proprio da qui Dalla cosa più inutile e ammaccata Di questa postazione La mia fedelissima borraccia Che mi accompagna sempre Tengo sempre la borraccia Sulla mia postazione Perché è importante per tenersi idratati Abbiamo subito qui ragazzi A seguire il mio microfono È un Sennheiser È vero MK4 La particolarità di questo microfono È che non è il modello standard Che si può acquistare Ma dietro questo bellissimo peluche Della Showdown Ci sta La firma Supercell Signori Perché questo È un prodotto Che mi è stato mandato Direttamente a Supercell Per alcuni sicuramente Questa cosa non avrà valore Ma per me lo ha Ed è un valore grandissimo Passiamo sicuramente A quest'altra cosa Che ha un altro valore Incredibile per me Ovvero il tappetino Della ESL L'Electronic Sport League Ragazzi Questo tappetino Ha un valore particolare Per me Perché arriva Dalla Germania Da Hamburgo Sapete che Il viaggio da Hamburgo Per me è stato un viaggio Veramente molto significativo Molto bello E mi piace veramente Questo tappetino Che tra l'altro È un po' sporco di caffè Ma voi non avete visto niente Toccia Pallè a posto E tra l'altro Parliamo di mouse In particolar modo Questo è il Model 0 Della Glorious E a proposito di ciò Vi lascio nella descrizione Del video Tutti i referral Di Amazon Se insomma Se vi interessate a qualcosa E soprattutto Se volete farmi diventare ricco Detto ciò Passiamo al mio portatile Che è un HP Envy 360 Se mi ricordo bene Lo andrò a togliere Perché il microfono Ci sbatte contro E no Beh in realtà Lo metterò proprio In un'altra postazione Ma questo ragazzone Ha il principale scopo Di guardare Netflix No Volevo dire Di lavorare Quando sono fuori porta Oltretutto Forse qualcuno di voi Avrà notato Che là C'è il bordo Della porta Staccato Perché è da aggiustare Ma quello È un dettaglio Volevo passare I miei monitor I miei monitor Ragazzi Sono Un Ben Non mi ricordo assolutamente Il modello Ma ve lo lascio in descrizione Ce l'ho da una vita E lo uso per verticale In live È comodissimo Il monitor per verticale E poi Ho un 21 noni Della Samsung Fantastico Per editare Perché ti rimane Una timeline Lunga Un chilometro E Tutti e tre i monitor Anche il portatile Sono supportati Da un braccio opposta Anche il portatile Ha un attacco opposta Che vi faccio pure vedere Che è questo qui Che mi sono stati appunto Mandati insieme Alla schivania Sempre da Pottersen Ecco Prima che mi dimentico Vi dico Appunto che Qui abbiamo Il quadretto comandi Che vi menzionavo poco fa Mentre dall'altra parte Qui abbiamo Un cassetto Che mi hanno mandato Sempre loro È un cassetto particolare Perché si attacca Effettivamente Sotto la schivania E si alza E si abbassa Ovviamente Insieme a Quest'ultima La schivania Bene o male Ha anche uno scomparto Per tenere i cavi Quindi Bene o male Non si vede niente E tutti i cavi Si dividono In una presa Che è quella là Non so se si vede Quella lì Ok E Da questa parte qui Che cos'è quello? Niente di che Se non La mia salvezza Si tratta infatti Di un UPS Un gruppo di continuità Vi lascio anche Quella in descrizione È un prodotto Che consiglio a tutti Soprattutto quelli Che fanno il mio lavoro I miei colleghi L'UPS infatti Permette Fondamentalmente Due cose Molto fighe La prima È di salvaguardare Tutta la postazione Che vi sto mostrando Da magari Degli sbalzi di tensione E la seconda cosa Che permette di fare È di mantenere Tutta la postazione Alimentata Beh Non tutta tutta Solamente le cose Veramente necessarie Quando salta la corrente Quindi Questa postazione È in grado Di crashare Tantissime volte Perché sapete Che i live Mi capitano Di tutti i colori Ma Non per Appunto La mancanza Di corrente elettrica Il gruppo di continuità Infatti Sono due Uno È collegato Qua sotto L'altro È in un'altra stanza Dove ho effettivamente I miei modem I miei router E ovviamente Quando salta la corrente Entrano in funzione Tutte e due Questo permette Sia la postazione Di rimanere accesa Sia a internet Di continuare a funzionare Ciò vuol dire Che se Mi salta la corrente Mentre sono in live Io posso Continuare a streammare Sì le luci Nella stanza Si spengono Ma la live Rimane accesa Tornando a noi Abbiamo subito Qui a fianco Al tappetino Le mie Astro A50 Di seconda generazione Sono sporchissime Sono vecchissime Un padiglione Si sta staccando Ma le amo Sono cuffie fantastiche Wireless Con la loro basetta Piene di polvere Ma wireless Con la loro basetta Oltretutto Piccola chicca Che vi mostro subito Sapete che io sono un amante Del tema legnoso Queste cuffie Hanno una skin Che non noterà mai nessuno Se non in questo video Appunto A tema legno Bene Ora tornate a Sembrare cuffie Semplicemente scure Passiamo alla tastiera Questa ragazzi È una tastiera Che dai Non posso Non menzionare È infatti L'oggetto più vecchio Di tutta la postazione Ed è di una marca Chiamata Klim Che forse Magari qualcuno di voi Conoscerà Perché adesso Effettivamente Su Amazon c'è Quest'azienda infatti Mi contattò Veramente Anni e anni fa Non ho neanche idea Di quanto tempo Si è passato Dicendo che voleva Cominciare a vendere Roba su Amazon E mi voleva Andare a una tastiera E l'ho detto Fondamentalmente Ok Mi ci sono trovato bene E mi ci trovo bene Tuttora Ha preso un sacco di botte Sta tastiera Li faccio di tutti i colori Eppure non molla Subito qui di fronte Abbiamo Il mio carissimo iPhone 11 Pro Ragazzi Ehm Da notare Questo Signori miei Lo stand del telefono Che voi direte E' uno stand del cavolo Eppure brutto No E' bellissimo Perché questo L'ho stampato io In 3D ragazzi Con la stampante In 3D L'ho fatto io E' una cosa Veramente fantastica Cioè Non potete capire Ma guarda che Figata E' anche più bello Il telefono Ed è una cosa Comodissima Ehm Prima di passare Dalla parte sinistra Saliamo un attimo E facciamo un giro Quella è una luce Questa Questa è la mia Videocamerina Ed è una Sony RX Mark 5 E' fantastica E' la videocamera Degli youtuber Vabbè oddio Era una volta La videocamera Degli youtuber Ma per streamare Va benissimo Per una semplice Ragione Perché E' Compatibile Con Il cam link Vi lascerò in descrizione Anche Magari la Logitech Brio 4k Che è una Webcam Un'alternativa Veramente Ottima Infatti guarda Ne ho una Qua Guarda caso Si col filo sopra La uso un po' come videocamera Così Alla viva al parroco Se tipo devo inquadrare qualcosa Che sto facendo Sulla scrivania O magari voglio mostrarvi Effettivamente Che cosa sto facendo Con il tablet L'avete vista in video Come Video dove vi mostravi I controller Per i dispositivi mobile Oppure Tutti i video In cui vi mostravo I miei pollici Mentre giocavano Brawl Stars Però in realtà Va benissimo Anche come facecam E ve la consiglio Perché risparmiate Un sacco di soldi E Veramente Questo Truccio Mastruccio Che ho fatto L'ho fatto solo Perché un domani Spero di arrivare A fare video in 4k E avrò già la videocamera Ma Altrimenti A parte che anche La Logitech Brio Se non sbaglio Arriva in 4k La Logitech Brio Comunque ve la consiglio un sacco Se volete una facecam Una webcam È la migliore Unico consiglio Utilizzate sempre Il cavo originale Torniamo bruscamente Nella postazione Perché ho qui ragazzi Il mio fedelissimo Stream Deck Questo ragazzi È Un Piccolo gadget Che hanno tipo Tutti quanti Gli streamer del mondo Se volete streamare seriamente Io però vi consiglio E se avete una scrivania Abbastanza grande Come nel mio caso Il modello XL Questo in particolar modo Però è il modello standard Ce l'ho da un sacco di tempo Ed è comodissimo Per mutarvi Smutarvi O cambiare Inquadratura Durante le streaming In realtà Questo è il gatto In particolare Ormai lo uso solamente Più per i cambi Di inquadratura Perché Per quanto riguarda Tutto L'ambito sonoro E beh C'è stato un periodo Della mia vita Nel quale mi sono Intrippato parecchio Con il sound E ho acquistato questo Con i nastri di carta Guardate quanto è grezzo Quanto è greve Beh ragazzi Questo è Un midi controller E io Vi sconsiglio Assolutamente Di comprarlo Subito Mi ero intrippato Veramente un sacco Con questa roba E un gioiellino Permetti di fare cose Assurde Cioè io posso andare Ad abbassare E alzare Il microfono Che sentite voi O alzare E abbassare Il medesimo microfono Che però sento solamente Io in cuffia Posso combinare Più audio Posso fare un sacco di roba Ma effettivamente È molto Molto difficile Da programmare Perché va effettivamente Programmato Ragazzi In un linguaggio Simile al java Per chi se ne intende Un minimo Comunque è un bordello E qua Questa luce rossa Questo signori miei È il quadstellar Il mio computer Decisamente Troppo ingombrante A questo punto Come ho fatto poco fa Dovrei dirvi Che vi sconsiglio Di acquistare un computer Così ingombrante Ma Non lo farò Io infatti Ho questo Particolare case Per due ragioni La prima È che L'ho pagato pochissimo E quindi l'ho comprato E la seconda cosa È che è veramente Mastodontico Io non sono Un fenomeno Per quanto riguarda L'hardware Però Se il mio computer Ha dei problemi Posso provare A metterci mano Spesso Vado solamente A peggiorare I problemi In questione Ma Ogni tanto Riesco anche A sistemarli E la cosa Fighissima Di questo computer È che Quando lo aprite Beh Dentro Praticamente C'è un monolocale Con la camera Da letto Il bagno Ma per concludere Signori Dai Non abbiamo parlato Di lui Il mio Storico iPad Francamente Mi piacerebbe Mettermi qui E spiegarvi Come faccio A registrare L'iPad Ma credo Che questa cosa Si possa Tranquillamente Menzionare In un video Dedicato Dove vi spiego Un po' Di trucchetti Inoltre Il sistema Che utilizzo Per registrare Lo voglio Appunto Upgradare In previsione Di portare I video In 4k Non oggi Non domani Ma fidatevi Tra un po' Di tempo Prima o poi Arriverà Il 4k Sarà effettivamente Una risoluzione Fruibile Da tutti E quindi Insomma So già che lo vorrò Ragazzi Questo è il mio paddino Cioè Lo conoscete Non ha bisogno Di presentazioni È vecchio È un iPad Del 2017 9.7 La particolarità Di questo iPad È che probabilmente Non ha mai Abbandonato Questa casa Vabbè A parte qualche viaggio Che ho fatto In cui dovevo registrare Però insomma È sempre stato collegato È un iPad Costantemente in carica Suppongo che sia un po' Come quello dei negozi Che c'ha la batteria A quel paese Come la mia videocamera Che si sta per scaricare Quindi mi devo muovere E niente ragazzi È il mio iPad Cioè Che cos'altro Devo aggiungere Questo Questa è storia Cacchio Lo incornicerò Vabbè ho capito Ho capito Apriamo un attimino Brawl Stars Ma tu guarda Che brawler Ci ha selezionato In questo momento E vi dedico Per un istante Quella che è La mia visuale Quello che Tutti i giorni Vedo Quello che Tutti i giorni È decisamente Un piacere vedere Ragazzi Io sono partito A fare questa cosa Che voi state guardando Oramai Diversi anni fa Il mio primissimo video È stato pubblicato Il 17 gennaio Del 2013 Con Il mio primo computer Di cui Oramai non rimane Praticamente più niente Ragazzi E Ne sono successi I cotti crude Ho Sempre avuto Un amore Per la mia postazione Nell'età Per Il mio studio In generale Infatti vorrei Poi fare un video Anche su quello Che c'è là dietro Ragazzi La mia collezione Quella Non so se basterà Un video Quindi non la vediamo Oggi Qui sì Ci sono ancora Tante cose Che non sono perfette Ma devo dire Che quest'ultimo upgrade Soprattutto perché Siamo in una stanza Dedicata solo a questo Ragazzi È qualcosa Di incredibile Sì magari un domani Arriveremo ancora oltre Ma già questo Per me Vedermi ora È una soddisfazione E Devo voler andare a parlare Tutto ciò è possibile Grazie a voi Solita cosa Sdolcinata La fanno tutti gli youtuber La devo fare anch'io Però è così ragazzi Non vi prendiamo in giro Quando vi parliamo Veramente col cuore in mano Vi diciamo queste cose È perché Noi arriviamo a Ottenere Determinati risultati Sì perché ci impegniamo E tutto Ma perché c'è qualcuno Dietro questa videocamera Che ci segue Che ci supporta Che ci dice Ogni giorno Bravo Forza Continua così E anche se Questi commenti Spesso Sono commenti E passano un pochettino Nelle retrovie Sappiate che io li leggo Li vedo E vi voglio un mondo di bene Adesso prima che mi metto a piangere Basta Chiudo sto video Un ultimo saluto Anche all'Osmo Pocket Che sto utilizzando Per registrare questo video E che è questa videocamera Che mi segue Qualsiasi cosa faccio Indovinate un po' Vi lascio anche quello In descrizione Vi saluto E ci becchiamo Al prossimo video Un bacio Ciao ragazzi Ciao ragazzi